L'importanza di questa rassegna in questo momento assume un valore ancora più grande di quando era stata pensata. L'importanza del dialogo, di fermarsi e di avere la forza di confrontarsi con rispetto delle altre parti, confrontarsi tra persone diverse che la pensano diversamente, possono essere per motivi che riguardano la differenza di età, di generazione, può essere per la differenza di religione come faremo oggi pomeriggio, per la differenza di visione politica. C'è sempre comunque la possibilità e questa è la grandezza di trovare un punto comune dal quale cominciare a parlare.